Per me la sostenibilità è appunto l'agire per un'azienda non solo sotto l'aspetto economico ma anche nel rispetto dell'ambiente e dell'aspetto sociale, quindi del lavoratore ma in generale tutti gli stakeholder. L'azienda riguarda molti ambiti, sia quello economico, sociale, dell'ambiente. E per il singolo cittadino la sostenibilità deve comprendere comunque tutto lo stile di vita. È una grande sfida la sostenibilità dal punto di vista economico e quindi riuscire comunque ad avere una sostenibilità quindi anche un profitto pur rispettando le leggi che stanno alla sostenibilità. Per me la sostenibilità è per quanto riguarda un'azienda non solo basarsi sul profitto massimo ma considerare anche l'aspetto ambientale e l'aspetto sociale. Innanzitutto secondo me sostenibilità in questo momento è magari concentrarsi e rendere la gente più sensibile riguardo alla differenziazione dei rifiuti. È pensare in prospettiva, fare le cose per il futuro. Sostenibilità è un consumo responsabile. Sostenibile nel senso ecosostenibile secondo me, per cui quello che si fa lo si fa con un occhio all'ambiente. Cercare di fare degli interventi pratici per migliorare e rendere più sostenibile il mondo in futuro e cercare di essere responsabili adesso per un futuro migliore. Rispettare l'ambiente, quindi stare attenta a dove riciclare tutti gli scarti che facciamo, sia alimentari sia non alimentari. È una locazione migliore delle risorse per evitare degli sprechi e quindi chiaramente la raccolta differenziata per magari riciclare dei materiali che potrebbero essere riutilizzati in altri modi. Cercare di guardare il più possibile alla natura e a quello che poi ci verrà per le persone del futuro. Chiaramente risparmio energetico. Io direi di partire dalle piccole cose, ovvero stare attenti alla raccolta differenziata, cercare di rinquinare meno, piccoli gesti che comunque evitare lo spreco d'acqua. Inizioni sostenibili in generale partono appunto dai comportamenti, appunto stare attento a non buttare le cose e magari cercare di riutilizzarle e comunque in generale tutti i comportamenti, usare più la bici meno la macchina e varie altre cose. Ad esempio, non lo so, in università qua si parla di differenziare i rifiuti, però abbiamo troppi bidoni indifferenziati, quindi magari se vogliamo effettivamente fare sostenibilità riguardo ai rifiuti, magari dovremmo iniziare a mettere più bidoni. Utilizzare una cosa fino a quando è davvero finita. Beh, intanto cerco sempre di fare la raccolta differenziata, se ho qualcosa da buttare non lo butto per terra, ma insomma cerco di mantenere l'ambiente pulito in tutto il più possibile. Evito di prendere la macchina, ad esempio, oppure la raccolta differenziata la faccio, penso che i miei comportamenti siano ecosostenibili. Essenzialmente cercare di fare la raccolta differenziata e non sprecare nell'uso dei cellulari, nell'uso di un oggetto, abbiamo per tanto tempo dato per scontato il fatto che ne avessimo in abbondanza e potessimo buttarlo, sfruttarlo. L'acqua, ad esempio, spegnere il rubinetto nel momento in cui magari ci si lava i denti. Beh, la raccolta differenziata e cerco di essere attenta all'ambiente il più possibile. Sì, perché i materiali sono sempre più complessi, non sono più semplici, sono sempre più compositi e quindi in quel momento c'è un attimo di titubanza. Gli evidenziatori dove li butti? Perché il contenitore è di plastica, però è dentro. Cosa che colora? Cioè, è del secco e diciamo, quindi non penso che si possa recuperare. Cerco di essere il più sostenibile possibile. Credo di sì, abbastanza. Nei limiti del possibile. Differenzio. Cerco di muovermi in modo sostenibile, quindi utilizzare mezzi pubblici il più possibile e sicuramente produrre meno rifiuti. Possibile. Comprare cose che abbiano un basso impatto sia ambientale che sociale. Io per essere sostenibile? Non lo so ancora. Diciamo che è un argomento ancora nuovo. Magari sono iniziato a cercare di differenziare, anche perché sto iniziando a vivere da solo magari ho più autonomia e faccio le cose come le penso e come le sento io. Prima, stando a casa, si fa semplicemente quello che si faceva a casa. Sì, anche se sicuramente faccio gli errori. Ricicliamo tutti i forze, ragazzi. Grazie a tutti.